Secondo open day, 19 bambine, 10-12 conferme per i corsi ma potrebbe essere qualcosa di più, martedì si inizia. Scusate per le foto ma sono un pessimo votore. Ripeto partita la categoria master, tutti insieme appassionatamente, 8 tiri di linea per loro. Scusate per le foto ma siamo solo all'inizio e per il momento tutti gli atleti lo seguono in piedi gli anni. A quest'anno 6 tiri al termine. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Di 4 atleti che però in questo momento vengono da altri. Quindi abbiamo ancora un gruppo appassionato generoso a condurre le danze. Alcuni atleti evidentemente non si sono staccati. trongi sono appena del giornale. Salute. si fa l'attleta della rally club di scoligia con di verona con luce ma gruppo comunque compatto è tutto in fine indiana, due giri al termine vediamo che c'è un parco all'esterno del compagno di squadra e abbiamo a condurre i due atleti della rally club scoligio di verona ma c'è un parco all'esterno e se non va elevato si tratta di Cristiano Sebastiano e ha preso un buon margine di vantaggio siamo al suono della campana, ultimo giro, lanciata la volata sempre Pisano che conduce comunque un buon margine di vantaggio ma vediamo che dietro il gruppetto si sta corrido con il gruppo per cercare di primo c'è un buon margine di vantaggio e è il pisano che va a chiudere vincendo questa volta Gini Media magari non è ancora conclusa e ora aspettiamo anche gli ultimi o l'ultimo ritrazzatario che siamo alla fine della città un applauso per noi e il secondo ruolo di Cristiano Ronaldo e il secondo ruolo di Cristiano Ronaldo